Era il 1955 quando all'incrocio del ferretto tra Magliano e San Cesare o nelle colline a Tornofano viene posta un'edicoletta con all'interno la statua della Vergine Maria in occasione dell'ordinazione sacerdotale di Don Sergio Marangoni ma in questi ultimi anni questa madonnina non riesce a trovare pace forse per un gioco stupido e blasfemo. Più volte infatti è stata presa di mira la struttura spaccate le vetrate che racchiudono l'immagine sacra che è stata divelta e gettata nel dirupo adiacente che costeggia il fiume. La penultima volta saranno ormai 4-5 anni fa. La gente subito si è data da fare per rimettere tutto a posto, ha creato anche delle pareti dell'edicoletta in vetro a prova di infrangibile a prova di proiettile. La cosa che ci stupisce è che senso ha questo gesto proprio brutto anche direi quasi blasfemo, offensivo della sensibilità cristiana. Poi perché queste edicolette qui da sempre non dà fastidio a nessuno, che senso ha logorare così e offendere così anche la devozione popolare. Affidata per ora ad una famiglia del posto che la sta conservando con cura, la Madonnina sarà presto rimessa nella sua posizione originale con la speranza che chi finora si è divertito sfregiando l'immagine sacra possa trovare altri passatempi per trascorrere le sue giornate. Abbiamo avuto vari appuntamenti in parrocchia, la Pasqua, poi le Cresime e non abbiamo ancora stabilito una data ma la stabiliremo una data in cui invieteremo la gente nostra a venire a ricollocare al suo posto l'immagine anche perché è oggetto di devozione della comunità nostra. Quindi speriamo presto di rivederla al suo posto. Sì speriamo chi è che ha fatto quest'atto che non lo faccia più e che sia sempre al suo posto. Che guardi le persone che passano e li protegga tutti.